In compagnia di un trio, ma uno è a spasso per il locale perché cerca le belle donne, quindi di un duo, ma in realtà loro sono in tre, sono gli Altamoda. Gruppo leader della musica anni 80, del Revival, rivista i giorni nostri, e proprio per questo motivo un grande successo nel mondo intero. Nel mondo intero, esatto. Noi praticamente siamo molto richiesti nei paesi dell'Est, quest'anno abbiamo fatto una tournée in Kazakistan, abbiamo fatto dei concerti davanti a 100.000 persone, una cosa esagerata, e lì amano la nostra musica e noi grazie alla musica italiana, ai nostri artisti che non tutti in Italia magari apprezzano e tanti snobbano, perché non sanno che Umberto Tozzi ha venduto 30 milioni di dischi nel mondo. No, con un disco solo, con Gloria, per dirti, capisci. Scusate, come fa Gloria? Gloria, Gloria, manchi tu dell'aria, Gloria, manchi tu del sale, Gloria, manchi più del sale, Gloria, via, sciogli questa neve, io che fa un caldo, io mi sono alternato con tanto di modestia al terzo mancate, perché il furbacchione in giro con le fanzulle. In giro, in giro, in giro, lui è praticamente il frontman perché canta, il cantante, Mas Praga, e ha questo vizio si può dire, e lui va in giro, noi anche quando dobbiamo suonare, oh, dove stai? Dobbiamo cominciare. Sono con una bella fanciulla. Deve andare a cercare, deve andare a cercare. Iniziano gli spettacoli, quindi a tra poco, con tutto quello che è il Summer Party, gli Altamoda.